Ok, iniziamo. E quindi facciamo che ci parliamo o siamo di fronte a te? Sì, ci parliamo. O di fronte a te o parliamo a te? No, parliamo a te insieme. Ok. Quando dici che va bene? Quindi, tanto l'audio poi viene tolto. Bene, non è senza audio, perché vogliamo mettere musica. Musica, ok. Non so se vedete questa produzione. Non ho proprio la processione. Ah, secondo me è un'altra cosa. Un'altra cosa, tu dovresti siedere qui, perché il tuo fianco è da... Ah, che bello. Io faccio un'intervistatrice e ti intervisco, va bene. Allora, signor Jake, ci pare ancora della sua vita? Incomincio, eh? Ci scaldiamo intanto. Tu fai... No, no, no. Ci dici quando mi do, cioè, dobbiamo firmarmi. Allora, dunque, signor Jake, siamo molto contenti di averla qui da noi. Ci parli forse della sua vita e... Che cosa ha fatto finora in questi venti, quanti anni? Trenta. Trenta? Che lei sembra molto più giovane. Complimenti. Grazie, grazie. Ci dico pure... Francesca, per cortesia... Ah, no, perché lo dà anche indietro, vero? Sì. Allora, per un minuto. Ok. Ok. Io sto facendo qui il panale, il gesticolare, va bene? Bene, bene, è finito. Ok. Ora, ora solo sto la faccia, se lo fa. Mettete... Mettete... In maniera coordinata. O magari vicino o separato. O voi vicine. Ok. Separato. Oh, è un... L'icce, light, l'uro? Light, eh eh. Ventale, ventale. Uno, due, tre. girate la testa guardate insieme non c'è problema ok sono uno sono io giro la testa la faccio di lui di là ok così va bene sto fermo ok c'è poco tipo la carrellata in avanti quando facciamo cercare di fare la carrellata in avanti si ora no la faccio di fare la carrellata in avanti Puoi togliere questo? Lo puntiamo verso sempre lì? Sì, va bene? Sì, ok. Da solo. Eh sì. Puoi mettere una foto? Sì, va bene? Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. Sì. Sì, va bene. Sì, va bene. Ora tu vai. Sì, va bene. Sì, va bene. Cos'è cosa devo fare? Come G? Non in particolare. Cosa? Mi muovo? Devo fare qualcosa? Muovo le mani? Come i capelli? Sì, sì. Io faccio cosa faccia. Uno. Due. Tre. Grazie. 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 Non ti senti fare la carrellata se fossi un passo più avanti, così dopo quando veni avanti senti dritto. Ok. Secondo me deve essere qui la produttura, prima era molto alta. Facciamo. Magari fai pesce o non fai pesce, perché stavolta non vengono fuori. Ocora ci possiamo cospargere di pesce di qua? No, basta andare un pochino per fare pesce. Vedete le pesce? Ok. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ok, vorrei fare una foto, guardate, no, no, senza mascherina. Puoi che la teniamo così, no? No, non ci problema. Ok, ora metete. Ok. Benissimo il tuo corpo. È il modello, c'è il modello. Si può tenere bene il freddo. Ok. Ora cosa facciamo? Andiamo a cambiare set. Andiamo là? Sì. Ok. Oh, magari no. Quando vai su, quando arrivi da questo, giri. Mi giro la sua di banco? Con la mascherina. Con la mascherina. Un, uno, due, tre. Giri. Basta. Non è abbastanza o mi giro di più? Vai. Non è abbastanza o mi giro di più? Giri. Ok. Sì, magari anche, per esempio, lo faccio, che c'era nel film. Sì, sì. Non so, poi io andrò al fondo. Giri la testa così, ecco. Guardate qua. Come una persona che è malo, che sta sententando una mano. A che me lo cos'è? Sì. Il mando. Ecco, però, però, sempre. Sempre cos'è. Troppa luce? Eh, no. Sì, 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 sì. e basta cecchia è freddo? guarda che tu vuoi leggermente leggermente fresco uno, due, tre piano piano ah ok basta Grazie. 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 Vuole prendere i pesci? Guarda. Vuole prendere i pesci? muvi farà se sta un po' più male. Ok. Va bene. Molto bene. Ah. Ecco. Perfetto. Ok. e poi andiamo parlo anche tu? parlo anche io ah mi sono su è troppo così tranquillo così ok non è male come te la scuola? è forte è una bella del capitale così ecco ora ok perfetto un po' di meno? così così ok ok oppure anche si ne ho un sacco tipo anche da qua magari qualcuno che si fai con le scale una cosa del genere che è un po' mi riguarda quel video che ci hai fatto vedere non so ah ok con maschera? e senza maschera? con maschera ok cioè riuscire a fare un po' di movimento un po' così sì 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 forse ci si riesce vorrei provare un pochino ci dai un pochino di attenzione oppure e poi e poi vediamo fai vedere se rimovo il video cos'è? il video quello che mi presento l'ispirazione eh c'è un po' di tutto l'idea cioè si muovono fanno eh vu se io ti faccio una prova come magari uno, due, tre bello 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 sei inzoutcatta Scusami perché non vedo spazi, non vedo niente. Mi muovo un po' più lentamente, provo a riparo. Molto bene. Uno, due, tre. Molto bene. Prova a andare là sopra, provo a vedere come si vede. Qui? Sì. Ma qua ce ne sono gli altri. Wow. Com'è? Prego, prego. Senza mamma. C'è un nome di tutti i bale. Senza mamma. Senza mamma. No, senza vestiti. Senza vestiti, senza mamma. Senza mamma. No, senza vestiti potenissimi. Senza mamma. dobbiamo fare tipo cecchi su cecchi si è arrivato? tipo spiro al cecchi guarda tutto risolto è l'un'opera di montare? si hai la cara? bene ciao 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 maestro aposcalista buongiorno francesca buongiorno 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 dobbiamo accendere l'iscaldamento l'iscaldamento buongiorno 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 perché è buongiorno Now what did you go to bed? How did you go to bed? How did you go to bed? Green. Here we go. There's still a fish. There's one? Yes. Let's go to bed. Let's go. 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 Il pavimento è flessere. Abbastanza. Poi mi scala da pavimento. Si, mi scala da risultato. Ok. Ora è inizio. Adesso ne ho fatto qualche trucco. Asi, mi stai. Si, non mi sono già su questo. Si, sono scoperto per le vittà. Si, sono scoperto. Attento in là. Grazie. Non è così che questo ha avuto un po' di me. Si. Non si sta. Attenzione. Faccio un basso. Ah, si parla. Così? Esano o poi tutto dritto? No, va bene. Non potete muovere? Ci muoviamo? Si, un po'. Ok. Terminato. Ok. 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 Grazie. 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 Una foto e uno video? Uno video. Ok. Faccio entrare? Faccio silice. Ok. No. Ok. 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 Aización de los barellidos. Ora vuoi ballare. Prendi dell'acqua. Grazie. Buono. A posto. Subito vado. Non prendi la faccia. Non prendi la faccia. Questo è interessante. Una domanda. Perché il pece deve venire da... Ah, non va via. Allora di giro. Giusto? Di giro, sì, dalla sua testa vengono. Sì, secondo me. Come capelli in chietà. Vero, io invece non ho la... Non ho la cosa che... 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 Anche uno... Così, no? No, due donne. E così. Non ho la cosa che... 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 Ma sul serio hai un figlio di 14 anni? Tu quanti anni hai? Io ne ho quasi 39 anni. Ah, ma c'è un più giovane? Grazie. È normale allora? Ma hai un figlio? È molto bello ed è molto bravo. Quanti anni hai? Deve andare in prima superiore a 12 anni tra poco. Sabato ne fome più da 14 anni. Sabato? Sì. È molto bello. 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 Molto.